Grazie della linea e siamo qui sempre all'Asset Management Forum in compagnia di uno dei protagonisti della seconda tavola rotonda, Antonio Poggialini, Sales Director di PICTE Asset Management. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Allora stiamo sentendo diverse visioni di mercato dai protagonisti anche della prima tavola rotonda. Quello che è importante però capire è anche la visione, cioè se di breve o di lungo termine. Come cambiano anche gli investimenti a secondo che si ha una visione di breve o di lungo? Certo, in realtà quando noi costruiamo un portafoglio per i nostri investitori finale dobbiamo sempre tenere in considerazione quello che è la caratteristica del cliente sottostante. Quindi in generale è sempre bene partire non tanto da quello che è la situazione del portafoglio dal punto di vista tattico, ma cercare di capire intanto quelle che sono le caratteristiche del cliente sottostante. Sappiamo benissimo che nel mercato italiano la clientela ha un approccio abbastanza conservativo e questo è il nostro punto di partenza. Quindi la conservazione del valore forse è la cosa più importante nel breve e medio periodo dove ci rendiamo conto che magari le variabili, soprattutto macroeconomiche, tutta questa incertezza che abbiamo a livello globale potrebbero portare problemi all'interno del portafoglio. Quindi l'approccio conservativo è fondamentale per non impaurire le caratteristiche principali del nostro cliente come dicevo prima è un approccio molto conservativo e da lì dobbiamo partire per la costruzione. Quindi nella gestione soprattutto del breve e medio periodo dobbiamo avere sicuramente un approccio conservativo dove le variabili macroeconomiche hanno un impatto più limitato. Il problema è che fino ad oggi magari costruire un portafoglio conservativo significava utilizzare tantissima parte obbligazionaria perché poi in generale un portafoglio conservativo è sempre identificato come circa un 70% obbligazioni governative europee e un po' di azionario sopra questo 70%. Perché? Perché in generale storicamente questo significava avere una volatilità abbastanza controllata e un rendimento accettabile di circa un 3-4% l'anno storico. Il problema è che oggigiorno non riusciamo ad avere un 3-4% con un 70% di obbligazioni governative anzi questo 70% di obbligazioni governative potrebbe portare addirittura più volatilità di un approccio azionario aggressivo per il fatto che i tassi sono così tirati che basterebbe poco per portare delle perte in conto capitale importante nel lato obbligazionario. Quindi dobbiamo sempre stare attenti a costruire un portafoglio che non snaturi dal punto di vista del rischio quella che sono le caratteristiche ma che utilizzi strumenti diversi. Quindi nel breve e medio periodo è fondamentale utilizzare gli strumenti che oggi la finanza ci dà a disposizione quindi derivati per copertura, un approccio azionario controllato, la gestione delle valute, l'utilizzo delle materie prime quindi tantissimi strumenti che abbiano però con l'obiettivo finale sempre lo stesso cioè quello di sì cercare di avere il rendimento elevato ma dall'altra parte consentire al cliente di avere un rischio che si allinea con il suo rischio storico. Quindi non snaturare le caratteristiche di rischio del cliente ma cercare di mantenerle dall'altro lato ottimizzando un portafoglio che come ho detto per il fatto che la natura stessa del mercato obbligazionario così è cambiata è più difficile sicuramente da ottenere. Sul lungo periodo invece com'è cambiata anche la scelta degli investimenti? Ci si orienta molto più anche sui cosiddetti megatrend? Allora questo in PICT lo facciamo da circa 25 anni quindi in realtà noi abbiamo già abbracciato un approccio diverso al mercato azionario ormai da tanto tempo ma io lo vorrei dire come che poi l'approccio dei megatrend che hai accennato lo vorrei considerare come forse un ritorno alle origini e perché un ritorno alle origini? Perché alla fine se uno va a vedere quello che è il valore aggiunto del mercato azionario e quindi trovare delle aziende che abbiano come dire un prezzo in crescita e se uno torna un po' alle basi dell'università a un prezzo in crescita significa che un'azienda che ha utili in crescita più della media quindi alla fine dobbiamo cercare le aziende che facciano utili per questo ritorno alle basi, cercare le aziende che crescano utili in modo il più possibile costante e anche abbastanza con buona probabilità. Per fare questo naturalmente cosa significa avere un approccio che si basa sui temi? Significa cercare dei fattori di lungo periodo a cui l'azienda possa essere collegata per avere degli utili che sono più alte della media e visto che le aziende sono sempre più globali oggigiorno avere un approccio geografico è riduttivo perché alla fine io vado a valutare un sovrasottopoese aziendale solamente per il fatto che l'azienda è quotata nel paese X o Y quindi forse dobbiamo un po' abbandonare questa logica geografica di allocazione del portafoglio perché? Perché con il fatto che le aziende sono sempre più globali quindi forse è più importante guardare i fattori intrinseci dell'azienda quindi come l'azienda riesce a crescere gli utili piuttosto che andare a vedere dove l'azienda è quotata quindi questa è la base dell'approccio tematico e come dicevo ritorno all'origine per il fatto che noi guardiamo i fondamentali dell'azienda cerchiamo di valutare gli utili e cerchiamo di avere degli utili più alti della media per il fatto che questi utili sono dettati da delle tematiche di lungo periodo che poco subiscono, almeno minimizzano quello che può essere l'impatto di un ciclo economico di problemi geopolitici per il fatto che se ci sia un presidente o meno in un paese o ci sia un'elezione o meno non va sicuramente a inefficiare sul fatto che ci sia lo sviluppo tecnologico piuttosto che attenzione sulla salute, piuttosto che invecchiamento della popolazione e questo è un qualcosa che noi dal 1995 facciamo quindi ormai circa 25 anni con successo perché poi alla fine è un approccio che pagano quindi guardare gli utili e non guardare l'azienda è quotata porta ad avere un rendimento più alto della media del mercato Bene, ringraziamo Antonio Poggialini di essere stato con noi lei andrà a prepararsi per la seconda tavola rotonda e l'aspettiamo presto sulle fonti tv Grazie